Con l'estate in arrivo la Toscana si prepara a prevenire e combattere gli incendi boschivi attraverso la campagna antincendi 2021. Nel 2020 gli incendi boschivi sono stati 242 a fronte di una media annuale di 412, praticamente dimezzati. E per mantenere questo risultato la Regione ha messo in campo, oltre alla prevenzione, 170 direttori delle operazioni di spegnimento, 4.000 volontari, 500 operai forestali e la messa in campo di 700 mezzi ai B e la flotta regionale di 10 elicotteri. Per quanto riguarda il 2021 si sono registrati 88 incendi su una superficie boscata di 77 ettari. I rischi cominciano in questo periodo per il 2021 anche perché è bene ricordare che buona parte degli incendi boschivi sono causati dall'uomo e quindi è necessario ed è importante allertare tutti alla massima attenzione di gesti anche non volontari, anche semplici, anche così, che si immaginano privi di conseguenze e che invece possono innescare incendi anche disastrosi. La Regione Toscana invita quindi i cittadini a essere consapevoli sui rischi degli incendi boschivi, come ha sottolineato anche Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato per la protezione civile di Anci Toscana e Anci Nazionale. La consapevolezza dei cittadini è un tema importantissimo non solo per il rischio incendi ma per il rischio a tutto tondo. Ed è chiaro che se un cittadino è consapevole, se un cittadino collabora con le pubbliche amministrazioni per evitare che il bosco che ha nella sua proprietà privata sia portatore di possibili problemi, possibili rischi, è chiaro che è un gioco virtuoso che consente l'abbattimento importante di eventi così drammatici. La nuova campagna antincendi prevede tutti i servizi di lotta attiva agli incendi attraverso la sinergia della Regione con i comuni, i volontari AIB, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Quest'anno sono stati potenziati anche presidi presso le isole minori, quella del Giglio, Capraia e Pianosa e il Parco regionale di Alberese.